Buonasera a tutti, sono Abib, sono un pizzaiolo di Piacenza e anche io vorrei fare la mia recensione sul corso di Andrea Di Giglio. Allora, io credo che lo chef Andrea Di Giglio sia un professionista e un maestro che ha il dono di insegnare. E non tutti i maestri hanno questo dono, dico il modo di insegnare perché ti fa arrivare alle cose e ti fa comprendere le cose molto più facilmente. E poi ti fa diventare padroni, come dice lui, delle cose, delle materie prime, ti le fa conoscere al meglio per avere un risultato migliore. Io, esempio, io prima di acquistare il suo corso che ho acquistato qualche settimana fa, esempio, andavo nei supermercati e prendevo le cose che trovavo sul scaffale. Esempio, io conoscevo, lui spiegava le forze delle farine e tutte queste cose, io come pizzaiolo li conoscevo molto bene, le forze delle farine, le loro maturazioni e tutto quello che c'è dietro. Però non conoscevo la storia del burro, che è una cosa che ha cambiato tutte le mie ricette, anche quelle vecchie, che io non riuscivo a arrivare a un punto, che non riuscivo a arrivare alle cose che volevo. Invece, grazie ai suoi insegnamenti e ai suoi, diciamo, i segreti, sono riuscito a ottenere un ottimo risultato. I burri, io usavo, qualsiasi burro io trovavo, lo usavo. Le mie ricette, infatti, non venivano mai bene. Invece, grazie a lui, ho scoperto che per la pasticceria serviva un burro e per la cucina serviva un altro. Le temperature del burro, tutte queste cose qua sono cose molto, ma molto importanti. E credo, se uno non fa un corso di questo tipo, ci spendi davvero tanti soldi e non solo soldi. Credo che perdi anche la pazienza a provare le cose e non ti vengono. Ma non è che non ti vengono perché uno è incapace, ma per la poca esperienza che io avevo sulla pasticceria. Io magari guardavo dei video su YouTube e cerco di copiarli. Come diceva lui, non bastava copiare la ricetta, bisogna capire il perché delle cose. E questa è una cosa davvero, davvero importante, è importante. Bisogna capire perché bisogna fare delle cose. E lui spiega tutte queste cose e lo ringrazio perché mi ha fatto veramente arrivare a quello che volevo. Dopo che ho acquistato questo corso, io questo corso l'ho acquistato sinceramente solo per ringraziarlo, per avermi fatto arrivare a un punto, per esempio con i cornetti, che non riuscivo mai a fare questi benedetti cornetti. Però grazie alle cose che mi ha spiegato ci sono arrivato. Ma poi dopo, guardando i suoi video, ho scoperto che lo chef, la sua saggezza, il suo modo di fare, non si fermava lì. Andava avanti. Ad esempio c'era anche un video sulla pasta frolla su YouTube, che mi ha molto colpito. e ho iniziato a seguirlo e ho notato che Dello Chef dà molto e si può imparare tantissime cose. Dopo l'acquisto di questo corso, ti segue anche, ti aiuta se non ti vengono le ricette, se hai dei dubbi. Cioè puoi magari contattarlo e ti risponde magari il giorno dopo. Ci sono anche le ragazze del suo staff che io ringrazio di cuore, perché sono stati sempre gentilissime. Aiutarmi per scegliere magari delle cose, quando ho dei dubbi magari li scrivo, loro mi rispondono. Proprio anche in questi giorni qua, avevo un problema con una ricetta e poi non l'ho fatta perché a quel lavoro non riuscivo. Infatti le ragazze dello staff mi hanno chiamato chiedendomi come va. Quindi non è che quando magari hai acquistato questo corso ti abbandonano o roba del genere. E per questa cosa lo ringrazio. Credo che sia una persona professionale. Io pensavo che magari avrei fatto la pasticceria lievitata e mi sarei fermato lì. Invece lo chef mi sta facendo conoscere un mondo immenso, un mondo bellissimo, quello della pasticceria. E mi sta facendo anche appassionare a questo mondo e credo che vado a finire che continuo su questa strada qua della pasticceria.